La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno gentili telespettatori e ben trovati con il nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa di Uno News. Sfogliamo le pagine dei nostri quotidiani, andiamo sulla prima pagina del mattino nazionale, parliamo di vaccinazioni, parliamo di scuola. Si pensa alle vaccinazioni anche a partire dai 12 anni per consentire o rientro in classe per l'anno scolastico 2021-2022 in piena sicurezza. Vediamo infatti il titolo, perché è il titolo di apertura con cui apre quindi il mattino nazionale, scuola, ritorno da vaccinati. Il piano per mettere in sicurezza gli istituti dal 28 maggio ok alle dosi Pfizer per 12 anni-15 anni. Brusaferro ci sarà un richiamo bis per tutti, Campania e Green Pass vale 100 milioni. Questo è il titolo di apertura. Andiamo in alto, si parla di Salerno. Il caso dell'allievo dell'Università di Salerno che simula un omicidio mentre sta seguendo la lezione in didattica a distanza. Vediamo il titolo, simula il proprio omicidio durante la DAD. Non è la trasposizione del web, lo studente 27 anni all'Università di Salerno ha voluto fare uno scherzo a docenti e compagni di corso simulando durante una lezione in DAD il proprio omicidio. E poi parliamo invece dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. Delitto Vassallo arriva in Parlamento, il dossier alla Commissione Antimafia. E parliamo poi, ancora cronaca sempre da Salerno, la movida violenta dopo la rissa, presidio dei carabinieri a Santa Teresa. Questa è la decisione tra prefetto, politica e forze dell'ordine. Andiamo di fondo, l'analisi quirinale, la partita da giocare con ordine. E poi gli scenari, la bolla sui prezzi, una mina sul rilancio. Torniamo a parlare di quirinale, andiamo a centropagina perché mentre il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al momento ha annunciato di lasciare alla fine del suo mandato, invece c'è chi pensa anche al Mattarella bis e si propongono anche nuovi nomi, tra cui l'attuale Presidente del Consiglio. Vediamo il titolo, Mattarella no al bis e parte la corsa al colle, Prodi si sfila subito, pressing su Draghi al governo fino al 2023. Il professore spero che il Presidente ci ripensi. Andiamo avanti, l'intervista Mirabelli, messaggio rivolto ai partiti incapaci di decidere. E poi le immagini che arrivano dalla Sicilia con l'Etna e lo Stromboli, le fumate dell'Etna e dello Stromboli per gli scienziati è un saluto a Franco Battiato. Vediamo la fiammata dello Stromboli, lava anche dall'Etna gli scienziati dedicato a Battiato. Questo è il titolo. Andiamo in basso, il calcio salernitana, la carica dei migli al Mary Rosi, grazie ragazzi, Castori ci scusi, il blitz dei tifosi. In alto, sotto il titolo di testata, canta Napoli, carosone infinito a vent'anni dalla scomparsa, spunta un inedito. E poi si parla di calcio, si parla di milioni, soprattutto in vista dell'attesa fine di campionato che deciderà, San Cina, anche quali sono le squadre che militeranno il prossimo anno nel Champions League o nell'Europa League. Il Napoli resta in bilico insieme anche a Milan e Juventus, ma vediamo quanto varrà per la società un passaggio in Champions. Vediamo, Napoli tra Champions ed Europa League ballano 40 milioni. E poi la storia, il calciatore eroe ucciso in Africa torna a giocare su FIFA. Questa è la prima pagina del mattino nazionale, restiamo sempre sul mattino e andiamo ora sulla prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo il titolo, ripresa, conto salato, benzina, pizze, spritz, frutta e verdura. I prezzi salgono dopo le riaperture, aumenti anche nei servizi, consumatori, aggravio di 250 euro. E poi l'allarme, botteghe in crisi, gli artigiani e i debiti con le banche, prorogate la moratoria sui prestiti, botteghe in crisi, lo studio della CNA. Le notizie di spalla, la cessione della Salernitana, mezza Roma resta con un nuovo socio, vendita del 51% delle quote, l'ipotesi si rafforza, strada percorribile. E poi l'omaggio alla squadra, al Mary Rose, i tifosi, l'abbraccio e le scuse, per sempre nei nostri cuori. Per le notizie a centro pagina, il caso mette in scena il suo omicidio mentre è indatti, il macabro scherzo dello studente dell'Unisaprof e compagni nel panico, il ragazzo è stato denunciato, un uomo incappucciato entra in chat. Parliamo ancora di scuola, piani estivi, SOS al ministro, il personale è allo stremo. Nelle fotonotizie, la violenza maxirissa della Movida, telecamere e controlli, i carabinieri arrivano a Santa Teresa, dopo il caso della maxirissa di sabato scorso in cui sono rimasti feriti anche due giovani adolescenti. Andiamo ora a centro pagina, la pandemia, vaccini agli agricoltori, ora Costiera e Cilento, l'hub inaugurato a Battipaglia, De Luca, salviamo l'economia. Per le fotonotizie in basso, il braccio di ferro, assistenti sociali nell'agro e guerra aperta con i sindaci e poi l'omicidio senza colpevoli, delitto vassallo e il dossier parlamentare antimafia. Questa è la prima pagina del mattino di Salerno, andiamo avanti, andiamo sulla prima pagina del quotidiano del Sud. Vediamo, si parla dell'inchiesta che ha travolto il presidente, anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ma soprattutto il suo vice, Fulvio Bonavitacola. Vediamo, ecoballe scandalo infinito, coinvolti anche i dirigenti a Sia e Sapna e l'ex vicesindaco di Napoli. Sono indagati anche De Luca e Bonavitacola per non averle rimosse. Una vergognosa teoria di promesse non mantenute, proroga delle indagini. Per la mancata rimozione delle coballe della campagna sono indagate 26 persone, tra cui anche il presidente della regione, Vincenzo De Luca, e il suo vice, Fulvio Bonavitacola. Andiamo avanti, la sanità dietro front dopo le proteste, il ruggi si pente, la rianimazione del D'Aprocida non chiuderà più. Ancora parliamo ora invece della pandemia, 122 nuovi casi nel Salernitano, 20 nel capoluogo. Per quanto riguarda invece il Covid e l'economia, con il coprifuoco prolungato alle 23, la Movida respira. Vediamo le altre notizie, ci spostiamo di spalla, San Severino cresce il fronte contro il degrado del Fucito. A Nocera Inferiore invece, Gori spietata, staccata l'acqua ad una 93enne invalida. E poi il caso, la FIGC non fa sconti, lo Tito non vende, rischiano la Lazio e la Salernitana. Andiamo in basso, anteprima, PC, una storia nazionale di Massimiliano Amato. Questa è la prima pagina del Quotidiano del Sud. Le altre prime pagine, e andiamo sulle cronache, anche qui si apre con l'inchiesta, che vede coinvolto anche il Presidente della Regione Campania e il suo vice in ambito di rifiuti e gestione dei rifiuti. Vediamo. Balle ed ecco Balle, indagati pure De Luca e Bonavitacola. Il titolo per le cronache, mancato smaltimento e mancato commissariamento degli antinadempienti. Ciarambino all'attacco, ma non sa ancora che è alleata con il Governatore, in 26 nel mirino della Procura di Napoli. Andiamo avanti. Il malinconico declino dell'avvocatura salernitana, anche il PM Penna, favorevole, Ilardi serve un polo museale. L'ex tribunale trasformato in set cinematografico, via Libera, dall'ordine della Camera Penale. Le altre notizie, l'otito deve restare, parla l'ex Presidente della Salernitana, a Liberti. Ricordiamo che dopo la promozione della Salernitana in Serie A, secondo il regolamento, un Presidente non può detenere due squadre nello stesso campionato, quindi l'otito dovrà scegliere quale squadra lasciare tra la Lazio e la Salernitana. Andiamo avanti. Nelle fotonotizie, l'inchiesta Masturzo, solo interdetto, appalti sempre alle stesse ditte. E poi Eboli, il marchio Navigare, chiude pure all'outlet Cilento la protesta. Fondazione Cari, se le restiamo in basso, conosce la Borsa 2021, premiati alunni di Campagna e Castella San Giorgio. Per le notizie di fondo, il fatto, da giugno si pagano le analisi e gli esami, Lamberti basta con l'emergenza. Poi Cronache Live, Roberto Manzo, a Reghi Rugby, lanciamo i giochi di spiaggia, San Gess, Salerno, diventi città dello sport. Questo per Cronache Live. Chiudiamo la prima pagina di Cronache, di Le Cronache, andiamo sulla prima pagina della città. Vediamo, in apertura a Salerno si scopre turistica, vaccini come in costiera. Questo è il titolo di apertura, l'annuncio del direttore generale dell'ASL, mentre nella Divina aspettano ancora le dosi promesse. E continuiamo. La città violenta col coltello sul bus, fammi scendere, ancora Salerno giustiziato in didattica a distanza, lo studente è stato denunciato, a noce all'inferiore, tariffe dell'acqua, si teme l'aumento. Le notizie di spalla, Salernitana l'abbraccio dei tifosi tra omaggi e scuse a Castori e agli eroi. E poi si guarda al mercato, Letizia è il sogno, ma prima i rinnovi. Per quanto riguarda le notizie a centropagina, Battipaglia apre l'ambulatorio per gli agricoltori immuni in quattro mesi. A mercato San Severino, trasporto degli obesi, la barella a Curteri, ambulanza al Ruggi. Vediamo come chiude la prima pagina della città. L'inchiesta Gold Business, rifiuti sotterrati in 18 dal GUP, chiesto il processo per la gag che avvelenava suoli e fiumi. Mi chiesto il processo degli imputati del Blitz Gold Business sul traffico dei rifiuti riversati nel Pormone Verde di Persano e nei terreni di Altavilla, Silentina e Serre. Le 18 sono le richieste di rinvio al giudizio avanzate dal PM e della DDA Giancarlo Russo, l'udienza preliminare dinanzi al GUP del Tribunale di Salerno. A Ponte Cagnano, immobili a ponti rotti, inagibili quelle case. Questi sono i principali titoli per le prime pagine dei nostri quotidiani. Torniamo ora sul mattino nazionale, andiamo ad approfondire alcuni dei temi che abbiamo visto, ma soprattutto andiamo sulle pagine di primo piano dove si torna a parlare del caso dei comuni. Dopo questo lungo periodo di pandemia pare che i conti dei comuni non tornino. Vediamo infatti il titolo Comuni a rischio crack. C'è il pressing bipartisan. Sanno già oggi in Consiglio dei Ministri una norma a ponti, obiettivo rinviare bilanci e dilazionare i pagamenti. Tutti partiti al tavolo del Vice Ministro dell'Economia per un fondo da 1,2 miliardi a Napoli, 100 milioni l'anno. Attivi PD e Movimento 5 Stelle, il centrodestra non fa le barricate ma chiede al MEF di vigilare sui conti degli enti in default. E in basso troviamo l'intervista a Valentino Grant. La Lega pronta a intervenire, la stagione del rigore ha punito tutti i municipi. Ma dietro la rinuncia dell'ex rettore leggo ragioni di natura politica interne allo schieremento. Queste sono le pagine di primo piano per il mattino. Parliamo ora del caso Quirinale. Agli inizi del 2022 sarà il momento di scegliere il nuovo Presidente della Repubblica mentre Mattarella dice no ad un eventuale Mattarella bis. C'è invece chi lo propone e si propone e arriva anche la proposta di Mario Draghi al Quirinale. Vediamo il titolo, le scelte della Repubblica. Mattarella, sono anziano, tra otto mesi mi riposo. Ma l'ipotesi del bis resta. Il Presidente parlando ai bambini ha ribadito la volontà di non essere rieletto. Continua il lavoro di PD, Centro e Movimento 5 Stelle. In caso di pericoloso stallo potrebbe ripensarci. E poi andiamo in basso. L'intervista Cesare Mirabelli, il capo dello Stato, ha parlato ai partiti. Sconfiggano l'incapacità di scegliere. E su questa pagina ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Torniamo tra pochissimo. Restate con noi. Bentornati alla seconda parte della nostra segna stampa. Andiamo sul mattino di Salerno. Vediamo, si parla ancora dei numeri della pandemia in Campania, soprattutto nel Salernitano. Vediamo. Contagi in picchiata, De Luca, ora i vaccini in Costiera e in Cilento. Il governatore inaugura a Battipaglia il primo hub per i lavoratori della terra. Il siero per far ripartire l'economia e nei luoghi dove arriveranno i turisti. Calano gli infetti. In una settimana solo 907 casi stroncate dal virus due donne, una a Fisciano e una a Ponte Cagnano. Presidio della CGL a San Severino. Questo ospedale ha perso tre reparti e tanto personale ora va rilanciato. E poi troviamo la storia. Maria, l'abbraccio con i nipoti e la caffettiera in dono ai volontari. Accava l'omaggio della donna guarita alla Croce Rossa che l'ha aiutata. Andiamo in basso. Ruggi, ben 102 donne in attesa di un intervento al seno. L'allarme sono 102 le donne che aspettano un intervento al seno a Ruggi. E quanto viene fuori passando in rassegna le liste d'attesa dell'azienda ospedaliera universitaria da cui emerge che sono in 18 con carcinoma accertato, 41 con lesioni sospette e 43 con lesioni benigne che potrebbero essere o diventare nel tempo maligne. Per questo motivo il Tribunale del Malato lancia un grido d'aiuto vista anche la riduzione delle prestazioni mediche e chirurgiche per colpa della pandemia. E chiudiamo questa pagina dedicata alla salute e anche ai dati per quanto riguarda i tumori al seno. Andiamo ora sulle pagine della ripresa. Parliamo sempre però di pandemia in particolare per gli effetti sull'economia. Ora si pensa alla ripresa però è una ripresa come abbiamo visto anche dalla prima pagina del mattino di Salerno molto cara per quanto riguarda i costi. Vediamo. Ripresa in odi. Il benzina, pizze, spritz con le riaperture. Ecco il conto del carovita. Prezzi in aumento per frutta e verdura, colpa della stangata sui carburanti. Rincare anche sui servizi alla persona si va a meno da parrucchieri ed estetisti. Le associazioni dei consumatori per le famiglie una spesa anno aggiuntiva tra i 230 e i 270 euro. Col diretti serve una rivoluzione green per contenere i costi, i pubblici esercizi lievi di alzi ma nel 2022 vini e liquori più cari. E poi c'è il focus sulle attività di artigianato. Artigiani in crisi di liquidità. L'appello prorogate la moratoria sui prestiti. Già 339 botteghe chiuse nei primi tre mesi del 2021. E chi resiste chiede più soldi in banca. Ronca della CNA. Occorrono misure di sostegno. Restiamo sempre sul mattino di Salerno. Andiamo sulle pagine del Cilento e del Vallo di Diano. In apertura si parla del caso dell'omicidio di Angelo Vassallo. Lo abbiamo visto anche dalle altre prime pagine. Dalle prime pagine del mattino. Ora arriva sul tavolo dei parlamentari dell'antimafia. Vediamo. Omicidio Vassallo. Arriva in Parlamento il dossier all'antimafia. Il deputato del Movimento 5 Stelle Migliorino apre un fascicolo e avvia audizioni mentre la procura di Salerno rivede tutte le carte dell'indagine. I magistrati, uno dei primi atti del procuratore capo di Salerno Borrelli è stato proprio quello di richiedere copia del fascicolo sull'omicidio Vassallo sia di quello composto a Salerno e sia di quello napoletano. Migliaia e migliaia di pagine che i magistrati della DDA salernitana stanno ora rileggendo e verificando per individuare eventuali falle investigative o dettagli che potrebbero essere sfuggiti. Insomma, un'analisi a 360 gradi che sta seguendo lui stesso in prima persona. Dario Vassallo questa volta si andrà in fondo e si indagherà sull'operato di chi ha indagato. Ad Agropoli, centropagina, carte false per patente e portodarmi. Nei guai anche un medico dell'esercito. Dalle intercettazioni telefoniche emerge l'accordo truffaldino con i titolari di agenzie automobilistiche. 120 euro a pratica. Le notizie di spalla. Studi geologici a Capofiume, patto tra comuni e università. E in basso, sala consiglina, bancarotta, processo da rifare dopo 16 anni. Chiudiamo questa pagina, chiudiamo il mattino di Salerno. Andiamo avanti, andiamo ora sulle pagine del quotidiano del Sud. E si apre sulle pagine di primo piano sul caso che ha travolto anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca e il suo vicefulvio Bonavitacola. Per quanto riguarda il caso di Ecoballe, quindi dei rifiuti, vediamo lo scandalo De Luca travolto dalle sue balle. Questo è il titolo con cui apre su questa pagina il quotidiano del Sud. La procura indaga sul presidente e su Bonavitacola coinvolte nell'inchiesta altre 24 persone tra Asia e Sapna. C'è anche l'ex vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice. Ipotesi di reato, omissione di atti d'ufficio per non aver tolto le Ecoballe. Nemesi storica, il lascito di Bassolino per l'odiato successore. E sempre per le notizie di cronaca, spacciava Ascish, arrestato un trentenne, ancora trovato con cocaina, in manette un trentatrenne. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti, sempre sul quotidiano del Sud. Andiamo sulle pagine della provincia di Salerno e andiamo a Sapri in apertura. Dopo il rogo gentile stempera, brutta storia, ma la città è sana. Indagini in corso per risalire alla matrice dell'omicidio che ha distrutto quattro auto. Bisogna attendere gli esiti delle indagini per capire la reale portata del rogo. Una cosa è certa, la nostra è una città tranquilla, finora mai interessata da episodi di questo tipo. A parlare il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, subito dopo l'incendio, che ha distrutto tre vetture in sosta ed una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria. L'ultimo di una serie di episodi inquietanti che hanno scioccato l'intera comunità dopo una teoria di atti vandalici nei confronti di un ristoratore in villa comunale e dei titolari di un bar e di uno stand del villaggio commerciale sul lungomare. Altri episodi più o meno analoghi si sono verificati in varie zone del centro. Stiamo a Sapri, sul lungomare, un nuovo spazio sportivo inaugurato sul lungomare Italia, il nuovo spazio all'aperto Sapri Beach Sport, voluto da un gruppo di ragazzi del posto guidati da Pierluigi Nicoletti e Alessandro Limongi e Rizzuti, ideatori del progetto. L'inaugurazione è stata benedetta dai due parroci. In basso a Sant'Arsenio, viabilità e sicurezza, il vallo ora si attrezza, potatura alberi e dissuasori stradali e poi età delle piante in un caso in civiltà diffusa nell'altro. Provvedimenti in tema di viabilità e sicurezza stradale nel vallo di Diano, a Sant'Arsenio il comune, ha previsto il divieto di transito e di sosta in via ex Mamma Gagliardi alle spalle della Casa Comunale per la potatura di alberi ieri e oggi fino alle 18. Sul territorio di Sant'Arsenio, si legge nell'ordinanza, insistono numerosi alberi di varia natura che in particolari periodi dell'anno necessitano di potatura. Per quanto riguarda invece le notizie riportate di Spalla, Tortorella, Turismo, nasce un portale web dedicato, mentre a Polla ecco il concorso gentile del comune. Si chiama Polla, un gentile balcone in fiore, il concorso indetto dall'amministrazione comunale nell'ambito del progetto Costruiamo Gentilezza. E chiudiamo anche le pagine del quotidiano del Sud, andiamo ora invece sulle cronache. Vediamo in apertura, andiamo a parlare anche in questo caso, vediamo infatti dell'indagine che ha coinvolto anche il presidente della regione Campania per quanto riguarda lo smaltimento delle ecoballe, vediamo ecoballe indagato il governatore De Luca, così apre su questa pagina le cronache, ipotizzato il reato di omissioni di atto d'ufficio in relazione al mancato smaltimento delle ecoballe e anche al mancato commissariamento degli enti inadempienti. Prorogate le indagini coinvolti anche Fulvio Bonavitacola e l'assessore comunale di Napoli, Raffaele Del Giudice. Sono 26 gli indagati, figura anche il presidente della regione Campania De Luca, tra le persone indagate dalla procura di Napoli nell'ambito di un'inchiesta risalente a qualche anno fa che punta a fare luce sulla gestione delle ecoballe e sulla raccolta differenziata. Gli inquirenti hanno chiesto qualche giorno fa una proroga delle indagini di cui si stanno occupando i carabinieri che ora riguardano anche il presidente della regione, il quale è stato sottolineato dall'avvocato che assiste anche l'assessore Fulvio Bonavitacola, non ha ricevuto al momento alcuna informazione di garanzia. Il legale Castaldi ha sottolineato che il presidente non ha ricevuto alcuna informazione di garanzia. Andiamo in basso, operazione All Black, stavano per essere smaltite in Puglia e lecitamente 27 tonnellate di rifiuti dall'isola ecologica di Sala Consilina. La finanza blocca tutto. E poi il caso, sacchetti aperti durante la notte, c'è traffico clandestino di rifiuti, la denuncia di Angelo Rispoli. Chiudiamo questa pagina, andiamo avanti sempre sulle pagine di Le Cronache e parliamo del caso del giovane studente universitario che simula l'omicidio in DAD tra la paura dei docenti e anche dei compagni di corso. Una sceneggiata che gli costa anche una denuncia. Vediamo. Simula l'omicidio mentre in DAD i carabinieri hanno rintracciato lo studente che ha ammesso di aver ordito lo scherzo e danni del docente utilizzando un'arma a salve. Uno studente universitario ventenne è stato denunciato dai carabinieri nella compagnia di Salerno per procurato allarme. Il giovane, secondo quanto ricostruito, ha simulato un omicidio mentre era collegato in video lezione con il proprio docente. Carabinieri, fuggi all'alta, arrestato per resistenza e detenzione fini di spaccio e manette un 33enne salernitano. E con questa pagina termina la nostra rassegna stampa. Io vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG alle 13.45. Grazie per averci seguito, auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.